Il nuovo ospedale di Andria sorgerà in contrada a Macchia di Rosa nei pressi della strada provinciale 231. L'approvazione all'interno del Consiglio Comunale è arrivata ieri e prevederà un'area di circa 19 ettari. La struttura è stata individuata per consentire a tutte le città servite, Andria, Corato, Trani e Canosa di Puglia, di raggiungere il nosocomio in 30-40 minuti. Nell'ultima seduta il Consiglio Comunale ha recepito le intenzioni della conferenza dei sindaci dell'ASBAT della Regione, ritenendo idonea l'area sulla ex statale 98. Con l'approvazione dell'atto di indirizzo la palla passa adesso alla Regione Puglia che avrà il compito di attivarsi per completare i finanziamenti necessari alla realizzazione della nuova struttura ospedaliera. Un'opportunità per un territorio, quello andriese, da sempre penalizzato e che avrà la possibilità di soddisfare le proprie esigenze con la costruzione del nuovo ospedale. Lo stesso direttore generale della ASBAT, Ottavio Narracci, aveva sottolineato l'importanza di creare una nuova struttura già da alcuni mesi, individuando proprio nell'area incontrada a Macchia di Rosa il luogo più idoneo per uscire a soddisfare tutte le esigenze richieste dal territorio della sesta provincia, ma non solo, vista anche la vicinanza di Corato. Superato lo scoglio del Consiglio Comunale, spetterà alla Regione compiere i passi necessari per accelerare l'iterburocratico per dare il via alla costruzione del nuovo ospedale.